e sa che c'è qualcosa che mi ti basta tempo di spiegare ma va con pensione, mi volevo attendere la radio ma quando mi chiedeva di differente gente sindicato non ti ha reclamato, il governo toccando il tema di un'operazione e mi ti ho riparato a vedere che c'è la pubblicità tra di c'è che non ho capito, non ho capito che non ho capito, non ho capito di dove c'è la pubblicità che apparece la pubblicità della pubblicità che è successiva nel anno del 69 che è successiva prima del antico ora non c'è stato a parte nel 86 ma è successiva abbiamo capito il negocio è successiva questo è successiva Ense che si lavorano su un'annunzio di un popio che sonoää del 69. 哇, un po' qualche tempo è un popio che c'è già existente? Si, sì, anche. Quindi si tratti sono presciato in un pubblicatore che ci sono del 69 di 31. Scriviti al commissario e ha chiesto e che ciò che legge il apparato il ministro ha avuto a risposta per il genito di una tolazione che ha avuto un avuto per il suo dirhame al solito di pensione con il dapposto di durato che si è stato di 60 di 100 di dirhame per il ministro la stessa di genito di pensione per la stessa perioda che era un ministro è stato un rostro per un anno, e il salario di ministro è stato quasi 98.636 per anno. Quindi è messo lì qui, è stato fatto anche con tutte le altre entrate per il governo, è stato fatto a deduzire e a quitar per i overbrochi. Quindi è stato fatto molto chiaro che ci sia un parte, un infolling, quindi questo è stato fatto a deduzire la pensione, ma per il tempo è che c'è 45 anni, quindi è stato fatto a un infolling, non si può coprire il rubro di stolare, ma non si può coprire la pensione, quindi si può coprire il compito di plastica, quindi è stato fatto a deduzire, non è quello così, è stato fatto a un infolling, è stato fatto a pensare, questa è stata fatta a pensare, è stato fatto a 25 anni, perché non è stato fatto a pensare come ministro, Per il nostro corso, il nostro corso di QTSS e per la costruzione.